partendo dal bordo destro della finestra del vento frenare con la maniglia e flettere il braccio destro e rilasciare il braccio sinistro poi accelerare con la maniglia e flettere il braccio sinistro e rilasciare il braccio destro ripetere il movimento alternato per eseguire le successive rotazioni il moonwalk è praticamente una bicicletta eseguita in senso contrario grazie a tutti grazie a tutti